ciao a tutti benvenuti al mio canale allora oggi andiamo a realizzare un piccolo decorazione con un tappo tre biglie un mazzolino di fiori finti una colla e le forbici allora inizieremo a aprire la nostra colla ed attaccare le tre biglie in forma a triangolo insomma sopra il tappo qualsiasi colla va bene anche comunque la colla a caldo io sto usando questa come diciamo per comodità ecco avevo già attaccato queste due insieme quindi non mi restava solamente che attaccare la terza e attaccarle poi in tutte insieme al tappo per testare se rimanevano attaccate ora invece andiamo a prendere dal mazzolino di fiori una rosa o il fiore che volete usare ovviamente e andiamo a tagliare tutto quanto lo stelo in questo caso in questo momento avevo appunto sbagliato perché pensavo che con questo piccolo pezzo fosse rimasto ma come vedrete si praticamente allarga tutto quanto e rovina il tutto quindi andiamo direttamente poi a tagliare anche col piccolo pezzo andando a posizionare la rosa sopra appunto questa è la parte dove appunto taglio il pezzo e questo è tutto spero che il video vi sia piaciuto che vi sia stata stata anche utile fatemi sapere se magari volete vedere alcun cosa di simile nel prossimo video e io vi saluto ciao 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 ciao